ciao belli di mamma come potete vedere oggi siamo ancora qui con un nuovo episodio di ultimi acquisti e novità allora e belle ultime novità beh ve le farò vedere in un prossimo video di aggiornamenti del canale quindi che caricherò al massimo cioè quindi che caricherò al massimo un proprio italiano correggiuta al massimo comunque che caricherò fra due e una settimana dipende adesso da da come insomma dipende dal tempo che ho comunque passiamo agli acquisti delle ultime due settimane ovviamente ken 21 e 22 che non possono mancare ormai manca veramente poco sono 27 quindi manca cinque volumi quindi cinque settimane ken è completato l'uomo tigre 8 proprio r motion e questo è l'unico che devo finire di leggere perché è un mattone cazzo sono arrivato circa a metà e cioè ve l'ho già fatto vedere ma guardate quanto è piccolo tu leggi non so quanto già è grande così come il formato più è piccolo uguale leggi un casino cioè quella cosa fighissimo naruto 64 che sta tirando un po troppo lungo la storia però interessante se siete amanti di naruto one piece 69 cosa posso dire il numero mi piace 69 69 però questa serie per il momento non mi piace la parte di della lì dell'isola lì che cazzo si chiama di cisa dal lì non è che mi piace così tanto insomma come si chiama punk hazard ecco non mi vediamo il nome non è che mi piace questa tanto cioè è carina ma niente di di più insomma e deadpool l'ultimo acquisto è deadpool quello con 96 pagine che hanno insomma messo un po' più di pagine e vi faccio vedere un attimo i disegni veramente fighissimo la parte della storia qua poi c'è la parte della storia della scimmia aspetta che vi faccio vedere eccolo qua l'anno della scimmia parte 5 veramente anche questo figa anche questo è strafiga è questa qua che non leggo mai insomma ci sono tre storie questo album in questo quadernino diciamo così e leggo solo le prime due e l'ultimo non lascio proprio lì perché c'è a parte che non mi piace disegni c'è una cosa non mi piace proprio come è fatta neanche non è divertente non ho niente almeno a me personalmente a me non mi piace comunque spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo il prossimo video ciao belli